Parlare del mio paese è cosa meravigliosa. Ognuno di noi conserva nel proprio intimo un'immagine primordiale, originaria della terra dove è nato. Nemmeno ce ne rendiamo conto, ma essa affiora a sprazzi qua e là in certi frangenti della nostra vita per poi ritornare di nuovo nei labirinti del nostro subconscio. Una visione nebulosa ed incerta di una terra collocata sul fondo di una valle e delimitata dalle coste e dai pendii di montagne e colline. Ci sono voluti secoli, ma così è nata Valmadreira. O meglio, la valle, una valle appunto dove l'acqua ha lasciato il posto alla terraferma e all'avventura di una popolazione nascente. A noi piace ricordare la nascita della val e dei suoi antenati con i versi vagamente onirici di un nostro poeta dialettale che dicono «La valle l'è nascita in mezzo ai pra, in un vede bel tempo d'escidera, forse l'era d'inverno o l'era està, magari l'era autunno o primavera». Ecco, con questo spirito ci addentriamo nel tempo alla ricerca delle nostre origini, quasi in punta di piedi, ma camminando nel presente, calpestando i sentieri dei nostri monti e le strade del nostro paese per renderci conto, quasi con meraviglia, che ancora sono rimaste molte tracce attorno a noi. È nostro compito aprire gli occhi, saperle cogliere e riportarle alla luce fino a quando il tempo ce lo permetterà, altrimenti svaniranno per sempre e ci resterà soltanto il rimpianto per non averle saputo conservare. Ci assale un dubbio. Da dove partire in questa ricerca? Fra le carte dello storico valmadrarese Achille dell'Oro abbiamo rinvenuto un manoscritto dal 1730 in cui veniva stilata una nota dei maschi dagli anni 17 agli anni 70 che di presente abitano in questo territorio. L'elenco è suddiviso fra le varie frazioni che a quel tempo davano già una fisionomia definita al paese, ma il punto ideale da cui partiremo per la nostra escursione nel tempo sarà il cosiddetto corpo della terra, cioè il centro del paese. Quando nel 1500-1600 venne edificata la prima chiesa parrocchiale qui nel centro paese, il nucleo abitativo si spostò progressivamente dalle pendici, da San Tommaso fondamentalmente, fino all'attuale centro. E oltre allo spostamento del luogo di culto si spostò anche tutta la vita quotidiana della gente nel centro. Non è o caso, infatti, che negli anni 60, in occasione della risistemazione della piazza, vennero trovate delle ossa probabilmente pertinenti a un cimitero, all'antico cimitero della chiesa, nel quale venivano sepolti i cittadini valmadreresi. Peraltro, il nucleo centrale del paese era già stato insediato molti secoli prima, nei primi anni dopo Cristo, nei primi secoli dopo Cristo, e testimonianza di questo insediamento romano sono fondamentalmente due nuclei di tombe, rinvenuti il primo nel 1935, il secondo nel 1971, rispettivamente in via Cavour e in via Trebbia, al confine quasi con Civati. Il primo nucleo di sepoltura romane, rinvenuto appunto in via Cavour, è stato datato ai decenni finali del primo secolo dopo Cristo, quindi nella prima età imperiale. Erano tombe prevalentemente a incinerazione, quindi il rito prevedeva ancora la combustione del morto, e nella cassa che veniva costruita e rivestita in pietre in laterizi, insieme alle ceneri del defunto, vennero inserite anche diversi oggetti che richiamavano l'attività durante la vita del defunto. Le tombe di via Cavour emersero due falcetti in ferro e anche delle cesoie che indicavano chiaramente l'occupazione dei morti, segnatamente l'attività agricola. Il secondo nucleo di tombe fu individuato, come dicevo, nel 1971 in via Trebbia. È un gruppo di tre tombe di cui una sola ha restituito corredo, un corredo che si segnala per la ricchezza e per la particolarità. Il corredo di una di queste tombe era particolarmente ricco perché è composto da una bottiglia di vetro, da un balsamario sempre vitreo, cioè una piccola ampollina contenente gli oli per la cosmesi, la decorazione del viso, prevalentemente femminile, ma non esclusivamente femminile, e soprattutto da tre armille di metallo. Le armille sono dei braccialetti non tanto da polso, quanto da braccio. Questi manufatti presentavano decorazioni in stile geometrico, ma anche zoomorfo, quindi terminazioni a forma di serpe, in questo caso piumata, che rimandavano a ambiti culturali, a competenze tecniche d'area celtica. Questi due importanti ritrovamenti, in definitiva, dimostrano come in età antica la valle di Valmadrera fosse stabilmente occupata da contadini, ma anche da personalità con una buona disponibilità economica, prima che nel Medioevo, col peggioramento delle condizioni, con la mancanza di sicurezza dovuta alle scorrerie di Vandari e di Barbari, la popolazione si spostasse e trasferisse la propria dimora sulle pendici delle montagne, prima che nel 5-600, ancora una volta, l'insediamento si rispostò nel centro attuale, dando origine a quella che è l'attuale Valmadrera. Siamo all'interno della chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Antonio Abate. Questa chiesa ormai da quasi 200 anni ha preso il posto dell'antica parrocchiale che a sua volta aveva preso il posto come chiesa parrocchiale del santuario di San Martino, tanto caro ai Valmadreresi. Parlare di questa chiesa parrocchiale vuol dire parlare innanzitutto degli architetti che l'hanno realizzata e delle varie opere d'arte che la distinguono in maniera significativa. Quindi un breve cenno a chi l'ha progettata. Si tratta di quattro architetti, Clemente Isacci, che è l'autore del primo disegno che poi è stato seguito in maniera quasi sostanziale, dall'architetto Giuseppe Pollack che dopo un'interruzione di lavori dovuti a carenza di fondi ha riesaminato un attimo lo stato di avanzamento dei lavori, dall'architetto Giuseppe Bovara che l'ha, diciamo così, perfezionata e dall'architetto ticinese Simone Cantoni che ne ha curato in maniera significativa la facciata. Di questa chiesa possono colpire vari elementi. Parliamo di quello architettonico che è costituito dalle quattro grandi colonne in ghiandone della Val Masino, colonne che sono state realizzate sul posto dal picca pietra della Val d'Intervi Giovanni Battista Rizza, coadiuvato da tre suoi aiutanti, colonne che ne sono un pochettino la caratteristica di questa chiesa data la loro significativa dimensione. Per quel che invece riguarda le opere d'arte possiamo innanzitutto parlare delle due state in marmo di Carrara realizzate dallo scultore Benedetto Cacciatori allievo del Canova, due statue che raffigurano il Cristo Redentore e Sant'Antonio Abate il patrono della parrocchiale. A fianco dell'altare, i due lati dell'altare maggiore, ci sono due affreschi opera di Raffaele Casnedi, professore all'Accademia di Brera in Milano, affreschi che raffigurano l'uno, Mosè e la legge e l'altro, Gesù che accoglie i bambini con la sua significativa frase rivolta agli apostoli che facevano un pochettino di difficoltà lasciate che i fanciulli vengano a me. Sulla volta centrale della chiesa abbiamo invece un altro grande affresco, opera di Luigi Sabatelli, anche egli un professore all'Accademia di Brera affresco che raffigura una scena dell'Apocalisse. Abbiamo poi sempre all'interno di questa chiesa due altari laterali entrambi arricchiti da due tele. Una tela raffigurante la Madonna ed è opera del Bertini, pittore famoso in Milano che ha realizzato alcune vetrate all'interno del Duomo. L'altare della crocifissione è invece abbellito da una tela di Mosè Bianchi artista monzese, una tela che raffigura un Cristo crocifisso. Un'ultima opera d'arte che caratterizza questa chiesa è una crocifissione con la Madonna, opera del pittore milanese Paolo Lomazzo o della sua scuola. Il complesso architettonico denominato Centro Fatebene Fratelli ubicato nel centro di Val Madrera tra la chiesa parrocchiale e il municipio ha preso il nome dagli antichi diritti di proprietà vantati nel paese dai frati dell'ordine spedaliero di San Giovanni di Dio di Milano conosciuti come Fatebene Fratelli. I rapporti tra la congregazione ed il paese di Val Madrera risalgono al 600 a seguito dei lasciti testamentari in Val Madrera da parte del nobile Francesco Bandelli. Dall'inventario redatto accuratamente nel 1787 risulta che il complesso comprendeva allora una casa da nobile nella parte nord-ovest e una serie di edifici corrispondenti alla stalla con cascina e torchiera con due cantine. è probabile che i religiosi abbiano apportato modifiche strutturali al complesso edilizio in relazione agli obblighi assistenziali del loro ordine. fecero inoltre dipingere sulla parete destra del portico del palazzo nobile un affresco con la vergine e due angeli che porge il bambin Gesù a San Giovanni di Dio. L'affresco strappato nel 1787 è oggi conservato all'interno della biblioteca civica precisamente in sala consigliare. ulteriori ristrutturazioni furono determinate dallo sviluppo di attività rurali e manifatturiere in particolare furono aggiunti una scuderia e una filanda con dieci fornelli che si trovavano molto probabilmente negli edifici posti nella parte nord. Il complesso dei Fatebene Fratelli acquistato dall'amministrazione comunale negli anni 80 ha subito radicali trasformazioni ed è oggi costituito da vari edifici distribuiti sui tre lati di un cortile di forma trapezoidale posto in comunicazione con l'orto botanico situato ad un livello inferiore. Sul lato nord-ovest si trova un palazzo di aspetto seicentesco con portico coperto da volta crociera restaurato all'inizio degli anni 2000 Alcune delle finestre del piano superiore sono ornate da balaustre in ferro battuto recante il simbolo dei Fatebene Fratelli un melograno da cui sorge la croce di Cristo in questo edificio si trovano la biblioteca civica e la sala consigliare nel settore settentrionale si trova un palazzo che ha subito una radicale ristrutturazione interna ed ospita ora una sala riunioni al piano terreno e una sala mostre al piano superiore il settore meridionale ospita l'auditorium corrispondente all'antica filanda e la saletta riunioni con volta botte ribassata con otto lunette in origine le stalle dal quarto lato del cortile si accede all'orto botanico qui ci troviamo nell'orto botanico di Val Madrera cosiddetto orto botanico giardino dei semplici anticamente qui così adesso noi li abbiamo riattivato da diversi decenni per scopi didattici è molto significativo il recupero di questa pezzatura di orto perché già nel settecento era di bicho orto dei semplici di Fatebene Fratelli e con questo recupero noi abbiamo cominciato a piantumare le prime erbe che le abbiamo trovate qui nella nostra zona noi abbiamo delle selezioni di piante tutte aromatiche medicinali abbiamo parecchie piante inserite che non sono qui ma sono mediterranee tipo il melograno o il banano che viene molto più in giù anche un mirto che viene dalla Sardegna o piante della costa mediterranea della costa toscana in giù la sala esposizione era destinata a infermeria ecco i paesi qui di Mitrofi portavano gli ammalati dove questi religiosi per un qualche giorno li curavano le malattie di allora cos'era la pedagra la nutrizione ecco igiene anche e loro riuscivano a guarire queste piaghe queste malattie attraverso quello che producevano qui con queste erbe con questi inguenti e con queste tisane dando loro per poter migliorare la propria salute ecco comunque per essere in uno spazio molto ristretto cioè abbastanza ristretto perché non è che sia grandissimo questo posto questo è un piccolo paradiso il centro si propone come fulcro delle attività culturali della città la località Molinetto prende il nome per la presenza nell'antichità di numerosi molini ormai scomparsi qui siamo nel molino Valsecchi è l'unico che ancora si è conservato lungo il corso del torrente rio Torto il molino sembra risalga al XVII secolo poi modificato e ampliato durante epoche successive forse l'ultima ristrutturazione è dal 1854 come testimoniato da una data impressa all'ingresso dallo stabile per produrre di come fosse il molino anticamente a venire a vedere un molino dove ci ho lavorato tanti anni mi ha fatto venire un po' di nostalgia innanzitutto della gioventù perché ho cominciato che avevo 14 anni e ho finito a 27 anni questo è il terzo piano del molino dove avviene la selezione del grano macinato ci sono le semolatrici prima esce il semolino poi la farina normale poi il farinotto il cruschello e alla fine la crusca va da un'altra parte tutte le pulegge che vediamo servivano per la trazione di tutti i vari componenti perché il molino va con una sola forza quindi tutto deve essere sincronizzato nel caso che si rompia una cinghia bisogna fermare tutto l'impianto questo è un buratto ha una funzione di setaccio sopra ci sono le bocchette che portano dentro il materiale e sotto ci sono le manichette che scaricano quello selezionato questi canali servono per contenere delle cinghie di tela pesante sulle quali sono avvitate delle tazze queste tazze scendendo sul fondo raccoglierono il materiale lo portavano nel punto alto dove doveva arrivare e veniva lanciato in altre canaline che la riportava nelle cocle che poi le distribuiva sia nei buratti sia nelle macchinette sia nel grano per la prima macinazione pavimenti in legno travi antiche scale in pietra collegano i tre piani dello stabile sede dell'attività produttiva all'interno tutto interamente in legno così da assorbire le continue vibrazioni dei macchinari successivamente al lavaggio quando sono depositati nel cassone allora ripartono e cominciano la prima rottura seconda rottura terza rottura e poi vanno nelle rimacine le rimacine sono quelle che sfarinano proprio fine su registi aziendali degli anni 30 dal 900 troviamo la dicitura molino cilindri Cugini Valsecchi Valmadrera e si vede come la produzione dei Valsecchi fosse principalmente di farina e crusca e serviva ai commercianti del territorio lecchese addentrandoci all'interno del mulino e toccando con mano i macchinari sembra ancora oggi di sentire l'assordante rumore e di riviverne il lavoro il molino Valsecchi è un esempio di archeologia industriale da preservare Piatta Rosè è sempre stata una cacina fino al 1947 eravamo qua in tre famiglie poi due famiglie sono scese in paese d'ora in poi sempre la mia famiglia che è rimasta qua Piazza Rosè è una proprietà dei Gavazzi di Valmadrera una ricca famiglia borghese c'era la stalla con quattro mucche in casa c'era il vigneto e qui si coltivava frumento patate quello che che occorreva per la famiglia e si consegnava una parte ai frutti vedoli di Valmadrera il famoso curin la bucione il peggio del sale come si diceva una volta e poi anche agli spazi zandari mescaleotto e ardenico il latte si consegnava la letteria sociale che esisteva a Valmadrera per andare in paese la strada era sterrata di notte non illuminata senza una luce ecco essendo ragazzi si aveva anche un po' paura quattro mucche che avevamo in stalla ogni anno si allevavano uno o due vitelle ed estate si mandavano in alpeggio al Bevesco un'alpe sempre di proprietà della famiglia Gavazzi gestito da un'altra famiglia che lavorava le dipendenze e la rimanevano dal mese di giugno fino alla fine di settembre e quell'alpe lì portava sulle 35-40 mucche poi in più a questo terreno avevamo in dotazione anche un pezzo di montagna detta bua che era una vecchia riserva di caccia tutta recintata con un muro a secco a sassi di due metri dove un tempo avevano su dei caprioli e non so forse la famiglia prima che aveva comprato Gavazzi facevano la caccia solare battute di caccia questo terreno e lì d'estate si andava su a tagliare l'erba per poter mantenere per mettere in cascina l'inverno e poter mantenere una mucca in più e l'inverno si andava a tagliare la legna per il riscaldamento casa nel 2013 questo terreno è stato acquistato dalla casa Lomanella la mia esperienza la trasmetto a questi ragazzi in modo che questo terreno venga cultivato come una volta e rimanga tale quale ci troviamo in località Rocca di San Dionigi all'interno della chiesetta dedicata al Santo Omonimo che la chiesetta che ormai da più di mille anni protegge questa piccola comunità o meglio per la precisione non sappiamo quando la chiesa è stata costruita l'unico riferimento certo è sempre il libro dei santi della diocese di Milano redatto da Goffredo da Bussero nel 1289 e in questo libro abbiamo notizie dell'esistenza nella valle Madrera quindi nel territorio chiamiamolo così della valle del Rio Torto della chiesa di San Martino della chiesa di San Tommaso e appunto della chiesa di San Dionigi facciamo poi un salto di qualche centinaio d'anni arriviamo al 1510 quando la famiglia Mandelli una nobile famiglia di Milano che aveva dei possedimenti anche in questa zona istituisce un diritto di gius patronato sulla chiesa di San Dionigi con obbligo di celebrazione della messe dota la chiesa di un fondo congruo per cui se ne deduce anche che la chiesa non aveva un ruolo di celebrazioni occasionali ma proprio celebrazioni regolari a quell'epoca 1400 1500 risalgono anche gli affreschi o meglio i lacerti di affreschi che vediamo adesso nella chiesa e che sono stati portati alla luce a fine anni 1980 perché grazie all'intervento di un benefattore sono stati eseguiti alcuni lavori di restauro lavori che hanno portato alla luce quello che è rimasto degli affreschi di quell'epoca affreschi che ritraggono ovviamente la virgine col bambino e poi alcuni santi particolarmente venerati San Cristoforo San Rocco San Sebastiano sempre in tema di affreschi c'è l'affresco che vediamo alle nostre spalle che raffigura il vescovo Dionisio un affresco non certo di autore noto ma comunque un affresco alquanto pregevole un affresco di autore noto Parè è la frazione di Val Madrera che si affaccia sul lago di Lecco. Il porticciolo, le case, le ville antiche e il panorama spettacolare sulle montagne verso Lecco ne fanno un luogo idilliaco. E la moderna passeggiata lago, l'attracco del battello, creano un aspetto armonioso e di benessere. La frazione, il cui nome Pareido, Parevecchia, appare per la prima volta nel censimento del 1730, negli anni 40 e 50 del secolo scorso era poco abitata. Godeva di una bellissima spiaggia e numerosi appezzamenti di terreno coltivabile. Poi ha visto nascere fabbriche meccaniche metallurgiche. Numerose erano anche le famiglie che si dedicavano alla pesca di tinche, alborelle, anguille e agoni. Sul lago, verso l'attuale Darsena, attraccavano numerosi combagli e barconi, provenienti da Bellagio e dall'alto lago, trasportando oltre alle persone anche merci, ma soprattutto bestiame e legna per le vicine fornaci. Le fornaci, situate in località Sassello, funzionavano fin dai primi decenni del Settecento. Nel 1800 erano 12 situate sulla spiaggia ai piedi del Moregallo e 4 hanno funzionato fino agli anni 50 del Novecento. Oggi, testimone di questi tempi, ne rimane solo una, la fornace chiamata Tripoli. Questa è una calchera, un meraviglioso esempio di fornace per la produzione di calce in esito alla combustione di calcare. Le montagne valmadreresi sono composte prevalentemente di calcare molto puro, che è ottimale per la realizzazione di calce. Il funzionamento della fornace era molto semplice. A piano terreno c'era la camera di combustione, dove veniva alimentato costantemente il fuoco mediante aggiunta progressiva di legname. Al piano superiore, invece, venivano inseriti blocchi di calcare provenienti dalla montagna, la cui cottura consentiva la produzione di calce. Ovviamente il manufatto che risale al XVII secolo fu rimaneggiato più volte, si possono notare queste arcate cieche in quanto tamponate. Poco più in alto si osservano dei fori pontai, segno di una presenza di una balconata linea, perché dal foro che vedete proprio sopra l'arcata veniva asportata la calce già pronta, che poteva poi essere utilizzata nell'edilizia. Per raggiungere progressivamente calcare, era stata realizzata alle spalle della fornace una rampa che sfruttava le pendici della montagna e consentiva agli operatori di aggiungere nuovi blocchi di calcare sempre da una posizione più elevata, in quanto i blocchi inferiori, in più a diretto contatto con il fuoco, progressivamente si trasformavano in calce e venivano asportati. Numerose erano anche le osterie e trattorie, nomi che evocano un passato che non c'è più. Tellavigna, Pastè, Barbisette, Baia di Parè, Circolino, Sassello e la trattoria Bellavista, che allietavano le giornate dei valmadreresi e dei lecchesi. Oggi sono state trasformate in moderni bar e ristoranti. Protetto dalla Baia, Parè gode di un clima temperato. Vi soffiano i venti tivano al mattino e breva verso sera. Per questo è diventato luogo di attrazione per surfisti e velisti. Ma alcuni giorni il vento, soffiando in modo impetuoso, con tutta la sua forza, crea delle giornate particolarmente suggestive. Il complesso della Finlanda Bovara di Parè può essere considerato come il primo insediamento industriale del nostro paese. Risale alla fine del Seicento, quando la famiglia Bovara si trasferì da Malgrate a Valmadrera. Giuseppe Bovara nel 1679 impiantò una piccola filanda di poche bacinelle che costituì il primo nucleo produttivo, sfruttando le acque del vicino rio Torto. Alle prime costruzioni si andarono aggiungendo altri fabbricati e l'insediamento completato nel Settecento è giunto sino ai nostri giorni mantenendo la sua originaria struttura. L'attività industriale dei Bovara andò via via scemando verso la fine dell'Ottocento. I Bovara si imparentarono agli inizi del Novecento con la famiglia di industriali serici baracchetti provenienti da Monte Marenzo e l'attività produttiva cessò definitivamente verso il 1930. Antonio Stoppani nel libro Il Bel Paese, parlando del sasso di Preguda, dice che è raggiungibile con un sentiero che parte dalla località di Parè in circa un'ora di cammino. Il panorama vi lascerà a bocca aperta il ramo orientale del lago di Comu verso Abbadia L'Ariana, la città di Lecco, i laghi di Garlate e Olginate e il lago di Annone, il primo dei laghi Briantei e giù verso la Brianza. Il sasso di Preguda è un enorme masso erratico di serizio ghiandone proveniente dalla Val Masino al periodo della glaciazione. È collocato su uno sperone del Mole Gallo a circa 400 metri di altitudine sul lago. Quando l'abate Antonio Stoppani, nell'Ottocento, vide per la prima volta questo imponente monumento naturale, dalla forma vagamente piramidale, durante una delle sue escursioni di studio sul Mole Gallo, ne restò affascinato tanto da dedicargli un poemetto. Nel 1895, per volere del parroco Don Giuseppe Valera, i contadini della zona costruirono una chiesetta e la dedicarono a Sant'Isidoro, eleggendolo a protettore delle messi e dei raccolti, una croce in ferro issata sulla cima del sasso, indicava che quel luogo era una delle stazioni durante i percorsi penitenziali, detti rogazioni, che si svolgevano in primavera in prossimità del Corpus Domini per invocare da Dio la prosperità delle messi e di beni spirituali. Al 1984 siamo messi in un gruppetto di volontari e abbiamo pensato di metterci a mano un po' questa chiesetta perché tutto il resto è qua in giro, che era da tanti anni che non si faceva più niente, tranne che venisse una volta l'anno dire messa e fare un po' di pulizia. Abbiamo fatto il tetto della chiesa, abbiamo fatto il poimento della chiesa, tutti gli anni, nel mese di maggio vediamo solo celebrare la messa. Grazie a tutti. In località San Brosera, a 716 metri di altitudine, sgorga una sorgente. I numerosi resti di casere, caselli e casotte testimoniano certamente l'insediamento di un alpeggio. Qui, durante i mesi estivi, una comunità di contadini si dedicava all'agricoltura e all'allevamento del bestiame, degli ovini e dei caprini. Quello che ora vediamo come un bosco, sicuramente prima era curato come un giardino, garantendo loro un'importante fonte di nutrimento per il bestiame ed era anche una riserva di legname per il riscaldamento e per la creazione di utensili di impiego quotidiano. Nel 1813, da questo masso erratico di cerizzo di Androne, furono estrati i blocchi per la costruzione delle quattro grandi colonne della chiesa parrocchiale. Conosciuto come Sars di Coulon, si trova in località la bua. Nelle vicinanze di Piazza Balcon troviamo il Stato del Merlo. La leggenda racconta che qui dentro, durante una temporale, si ricoverò un contadino. Il perdurare del maltempo costrinse lo stesso a rimanere segregato lì dentro per alcuni giorni. E mangia, e mangia, e bevi, e bevi e soprattutto bevi. Quindi quando si trattò di uscire il contadino rimase bloccato. Come sia finito non si sa. Non c'è una famiglia, buone. Quanti a mo strese. Chiede una famiglia, buone. Si, buone. Ah, buone s 00. Ok. Chiede una famiglia. Che lì c'è nel campo, non c'è da mangiare poco, sennò va bene. Mondonico per i Valmadreresi Mundunek, lo dico con orgoglio perché mia mamma è nata lì, è una delle località più caratteristiche e più antiche di Valmadrera. Sulla strada che porta San Tommaso con un bellissimo arco che è rimasto intatto, era già presente, era già abitata nel 5-600, il che fa capire come tutta la zona montana fosse la prima zona coltivata e abitata di Valmadrera e insieme al più famoso San Tommaso caratterizza un po' le origini contadine di Valmadrera e soprattutto come le famiglie risiedessero lì e facessero lì il proprio sostentamento. Sta di fatto che sono rimaste lì fino a dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, anzi, proprio durante la guerra il fatto di essere famiglie contadine permetteva loro di resistere e sussistere un po' meglio. A Messacciamo abitavano due famiglie, il Panatta e il Pujanet. Avevamo la stalla con quattro mucche, quattro capre, conigli e galline. Facciamo i formaggini, formaggini bianchi e impeverati. In Valmadrera andavamo giù a prendere un po' di pane. E basta. E basta, più niente. Il latte lo portavamo al casello, dalla ramina e avevamo là due ramine per uno. Uno loro, il Panatta e due noi. Dopo ognuno avevamo un pezzo di asse che mettevamo sui formaggini. Quando ci addentriamo lungo i sentieri che formano una fitta rete di percorsi sulle nostre montagne, ci imbattiamo spesso in strane costruzioni, specie di grotte o piccole caverne, delimitate da sassi impilati a secco. Solo da alcuni anni, i gruppi di volenterosi e di valmadreresi amanti dalla montagna si sono impegnati a tracciare una specie di mappa e fare un inventario di queste strutture che piano piano stavano per venire soffocate dalla vegetazione selvaggia e scomparire così alla vista per sempre. Ebbene, queste costruzioni disseminate sui nostri pendii erano nei tempi passati un punto di riferimento importante durante il tempo della fienagione, un luogo di rifugio in caso di maltempo o per la notte per gli agricoltori e di contadini che pascolavano le greggi di pecore e capre e per la conservazione temporanea dei prodotti agricoli. Sono le casote e i caselli del latte. L'ultimo tratto della strada medievale ci porta in località la Kulman. In questa zona vediamo questa casota. Questa casota è stata ricostruita da questo massimo poi. Era completamente distrutta. È stata ricostruita come in origine. I volontari di Valmadrera ne hanno recuperate e ristrutturate un buon numero che contrassegnate con targhette di legno indicano ora all'escursionista i nomi degli antichi proprietari. La casota del Spregacina, del Pertega, del Parasciola, dei Madalèng e molte altre disegnano una geografia del nostro passato riportandoci al mondo agricolo dei secoli scorsi e restano ancora sul nostro territorio come una traccia visibile delle nostre radici. Lasciato il sentiero delle vasche ora entriamo nel crotto degli sbandati. Notevole per la sua ampiezza interna è il crotto dei funzi in località Creminola, costruito nel 1910 e ricavato da una grotta naturale occultata da pietre abbarbicata alla roccia che si raggiunge da un ripido sentiero. Fungeva dal rifugio per le capre ma non sfigurerebbe anche se collocata è fra i sassi di matera perché all'interno è vivibile e poteva sicuramente offrire riparo per la notte alle greggi e dagli uomini. I caselli del latte fanno parte di queste costruzioni e sono prevalentemente collocati nei pressi delle sorgenti o dai corsi d'acqua perché erano adibiti alla custodia di prodotti alimentari come latte e formaggio e quindi necessitavano di luoghi più freschi. La località di Santo Maso era anticamente abitata dai primi pastori e caprari del nostro paese che qui vivevano e si sostentavano con l'agricoltura con l'allevamento del bestiame e con la pastorizia. Già verso il 1300 il presbitero e storico Goffredo da Bussero scriveva nelle sue cronache di un luogo di culto esistente sulle alture di Val Madrera dedicato a Santo Maso. Tutto questo territorio era allora feudo della famiglia dei Conti Mandelli che col tempo si impossessarono di tutta la zona circostante e sovrastante del monte. Sembra che il cognome più diffuso in Val Madrera Ruscone poi Rusconi provenga da questa zona e si diffonderà in seguito anche in paese. La chiesetta fatta costruire dai Mandelli era stata in seguito abbandonata all'incuria era il segno dei tempi in Fausti in cui anche il sentimento religioso si andava sempre più eclissando specie presso le famiglie dei grandi possidenti. Verso la metà del 600 i Mandelli vendettero buona parte della zona campestre agli eredi del marchese Bartolomeo Carpani in seguito subentrarono nella proprietà i Fatebene Fratelli grazie ad eredità acquisite dai Mandelli che si impegnarono a ricostruire il minuscolo tempio che sarebbe l'attuale chiesetta. Si giunse all'apertura ufficiale della chiesetta il 26 giugno del 1838 all'interno vi ha una tela che ritrae San Giovanni di Dio il fondatore dei Fatebene Fratelli San Tommaso davanti alla Vergine Maria la chiesetta all'origine si doveva considerare come un oratorio privato e solo servibile per quelle persone che colì vi abitano. Nei secoli seguenti a questo luogo di culto si andarono sempre più affezionando i Valmadreresi che l'hanno rimesso a nuovo con interventi e restauri vari e specie negli ultimi tempi viene periodicamente aperto per la celebrazione della messa. Un nostro poeta dialettale ha ben espresso l'attaccamento di Valmadrera alla chiesetta con questi semplici versi anche la comunità montana dell'area orientale ha contribuito a valorizzare i rustici e la zona circostante un agglomerato costituito dalle case abitate dall'area di ristoro e da un museo dell'agricoltura locale molto visitato. Il tutto forma così un suggestivo terrazzo che si affaccia sul panorama di Valmadrera e sui laghi dell'Abrianza. Il Museo dell'Agricoltura di Valmadrera si trova in località San Tomaso in un locale di proprietà della comunità montana dell'area orientale e della valle San Martino locale nel quale è stato allestito è stato raccolto e musealizzato tutta una serie di attrezzi legati alla vita contadina di Valmadrera in attività fino alla fine degli anni 50 inizio anni 60. Al primo piano è stato allestito la zona diciamo legata alla rattura e alla fienagione la zona legata alla viticoltura e alla produzione del vino nel piano rialzato sono stati allestiti gli spazi relativi alla lavorazione della lana alla produzione di latte e formaggi sul piano superiore invece sono stati ricreati i due locali fondamentali dalle abitazioni di allora ovvero la cucina che faceva anche da salotto da sala da pranzo e la camera da letto con annesso zona toilette io sono Rusconi Antonio sono figlio degli ultimi contadini diciamo così che hanno vissuto a Santomaso e Gerolamo vivevano con quel poco che dava la terra quel poco che si riusciva a racimolare tagliando la legna contivando il gran turco c'erano i bacchi da seta patate maes faioli faioli che poi metto quel orto quello che sempre sta l'orto si viveva in modo disagiato non c'era la luce acqua pochissima perché bisognava quasi rubarla c'era un accumulo di una cisterna che si riempiva con l'acqua piovana quelle poche sorrigenti che c'erano in giro per Santomaso addirittura le donne tipo mia mamma così andavano al torrente per lavare i panni e bisognava arrangiarsi il fratello di mio nonno un certo Giacomo chiamato Pinot conosciuto in tutta Valmadrera aveva pensato di aprire un'osteria dove vendeva il vino i contadini che salivano negli alpeggi sopra Santomaso alla sera si fermavano mangiavano bevevano mangiavano i formaggini che venivano fatti nei caselli che si vede appena prima di arrivare a Santomaso ci sono dei caselli e lì veniva la conservazione la trasformazione del latte dopo gli anni Santomaso oramai era passato nel dimenticatoio ben vengano questi contadini testoni come si suol dire crapuni della Val che non hanno mollato oi questa località è denominata la Portiola ed è un sito particolare perché ci permette di andare alla ricerca delle nostre radici del nostro passato più misterioso queste rovine queste mura diroccate emanano un fascino strano e come noi le stiamo vedendo adesso ai nostri giorni così le vedevano i nostri vecchi agli inizi del novecento ciò dimostra che queste costruzioni dovrebbero risalire ad epoche ancora più antiche e sempre dalle voci tramandate di padre in figlio di generazione in generazione è sorta la leggenda che qui potrebbe essere individuato uno dei primi insediamenti della nostra comunità della Valle Madraria ed in seguito fu anche abitata da qualche comunità di eremiti forse al seguito dei primi nuclei familiari che qui si andavano a stabilire e che avevano forse la cura delle anime di questi primi abitanti tutti i primi tutto questo resterà probabilmente un mistero sepolto sotto queste pietre che non hanno il dono della parola una leggenda che rimarrà sospesa fra le luci e le ombre di questo sottobosco questa grotta si trova nelle vicinanze di Portiola i nostri genitori per impedirci di entrare all'interno ci raccontavano questa storia pastore che portava le pecore a pascolare in questa zona ha visto entrare il suo cane all'interno di questa grotta e poi il cane è scomparso non si è più visto per tutta la giornata il giorno dopo questo cane dove riappare nella zona di San Pietro al Monte questa sì che è una bella leggenda in una zona del bosco dove abbondano i caselli del latte nei pressi del torrente Luera ci muoviamo sulle tracce di un sentiero che risale al Medioevo e che collegava Val Madrera a Canzo raggiungendo così il faggio secolare con accanto la sorgente che va sotto il nome di Funtanin del Fuo a Canzo